4 punti le separano, i bel gioco le accomuna, stadio franco maniscalco, questa è airone ardi a cori calcio, lo show da piani alti, primi in classifica ai giallorossi di D'Andrea, nessuna sconfitta e miglior differenza reti, ma hai segno X per l'airone del giovane romagnolo, che prova a pungere subito con un cross di muse al centro, Pavlik prende l'ascensore e anticipa Rocci, ma è un pizzico fuori, prosegue poco dopo Renzaia, che controlla il limite dell'area, si coordina per la pennellata giro, ma è alta, è una prima parte di matrice ardeatina, con uno straordinario Zanobi, che riceve i suoi 35 metri, disegna un mezzo esterno indirizzato all'angolino e vola Rocci in corner, e salva i suoi, da un 10 all'altro, Cichella domestica e va di scavetto su traccia esterna per Casaburi, che mette a terra e va potente, accarezza il gol, ma niente di fatto. È un botte in risposta, Renzaia ci prova secco al volo di destro, Capasso cerca il colpo Scicchio rovesciata, e subito dopo Sprecone, Ciarla, su palla invitante orizzontale, apre troppo il mancino esterno e non se ne capacita. Nel secondo tempo l'intensità sale, e si accende l'estro di Pavlik, che va pallo al piede in progressione profonda, entra in aria, prova di inquadrare lo specchio che non si infrange, regge il muro di D'Andrea. Al quarto d'ora poi, invenzione nello spazio di Capitan Cichella, che vede raso nella profondità, il celebre nove sfrutta il buco difensivo ed è davanti al portiere, ma se lo divora, e Leggio ringrazia. È però l'inizio di un forcing del Cori, traversone perfetto di Chiarucci per le torri centrali e distinto, ancora Leggio si rifugia in corner. È la volta di Cichella, che in surplus scaglie un diamante scintillante a giro e si supera Leggio, volando in angolo. La Irone prova a sfruttare allora le corsie esterne, assi splendido per il neoentrato Castiello, anticipato di un soffio sul più bello. Al trentaduesimo però, in bucata centrale Cori è amnesia difensiva Irone, per Ciotti è praticamente un rigore in movimento e col piattone, la piazza sul palo ed è rete. Cori in vantaggio con Ciotti, chirurgico e cinico, è festeggiato da tutti per un gol pesantissimo. Per l'1-2 micidiale passano solo quattro minuti, scodellata soft nel mucchio, capastolone in sacca, s'avventa sul pallone Lenzini che va di potenza da due passi, fulmina Leggio e 0-2. Raddoppio e gioia incontenibile per il vicecapitano, è partita in ghiaccio per il Cori. I tifosi partono già con i festeggiamenti e finisce così, con due gol in cinque minuti, il Cori vince ancora, capolista solido e maturo, contro un Irone bello a vedersi e destinato a crescere.